SDM News, il primo TG degli sport outdoor di montagna, a cura di Maurizio Torri. Ben ritrovati con SDM News, il primo TG dedicato agli sport outdoor di montagna. Quest'oggi parleremo di La Grand Course con la prima tappa 2014, ovvero la Pierramenta. Focalizzeremo poi l'attenzione sull'evento clou di questo fine settimana, ovvero la tappa italiana, sempre del circuito di La Grand Course, il Tour de Routor con i suoi tre giorni di gare, per poi passare alla Valtellina-Europia, gara valevole come tappa di Coppetaglia Trofeo Scarpa e concludere con una bella iniziativa a limone sul garda dedicata al mondo dello skyrunning. È andata in archivi lo scorso fine settimana la Pierramenta, ovvero il Tour de France dello scialpinismo, con le sue quattro tappe, i suoi 10.000 metri di dislivello, quattro gare in una sola. Quattro gare che vi racconteremo giorno per giorno. Si è partito subito alla Grandissima giovedì con un tappone, un tappone da 2.700 metri di dislivello positivo con 2.798 metri di discesa. Si è passati alla Grand Journée ed è subito stata guerra, è subito stata guerra tra gli Alpini, Matteo e Idalin, Damiano Lenzi, contro i vincitori 2013, William Bombardion, Matteo Jacquemot. Loro si sono combattuti fino all'ultimo cambio pelli. Nell'ultima discesa, nella picchiata verso le planee però, un problema di materiali ha limitato l'incedere di due Alpini che hanno così perso la tappa. Perso la tappa con un distacco di 43 secondi. Sul podio con loro si sono piazzati Xavier Gachet e Valentin Fravra. Buona prova anche per Michele Boscacci e Robert Antonioli. Al femminile invece Letizia Roux e Matteo hanno subito dimostrato che per le altre non ce n'era. Si correva solo per la seconda piazza, seconda piazza che sarà sull'aggiudicata Axel Mollaret e Emilie Ghezfabrie. Sul terzo posto invece per Severin Pont insieme a un'ottima Martina Valmassoi. Bella gara anche per Laura Vesseghini che ha corso la Pierramenta 2014 al fianco di Marion Meneglia. La seconda giornata si è vissuta su un attacco, un attacco importante, un attacco vincente. Quello degli Alpini, Matteo Eidaline e Damiano Lenzi. Loro ci hanno provato, hanno corso con grinta, cuore, coraggio e determinazione. E' andata bene. Hanno vinto una Garona, una Garona da 30 km con 2800 metri di dislivello positivo e altrettanto di discesa. Secondo posto per William Bombardione e Matteo Jacquemot. Terzo posto per la coppia Gachet-Favre. Un po' in difficoltà invece gli altri Alplini, i due giovani Michele Boscacci e Robert Antonioli. Al femminile sempre dominio, netto dominio della coppia Maud-Ru. Secondo posto per l'eccellente Martina Valmassoi insieme alla sempre competitiva Severin Pont. Terzo posto per Mollaret-Ghezfabrie e quarto posto per Besseghini-Mariona. Niente Granmont nella tappona del sabato. La tappona del sabato che causa problemi legati al meteo e quindi legati alla sicurezza degli atleti. E' andata in scena nella formula ridotta. Una formula ridotta solo sulla carta, visto che i meditri di dislivello positivo erano comunque importanti. Gli atleti sono passati quindi a corda alla Forcla e all'anticima. Un'anticima che ha visto la solita torcida di pubblico. Tanta, tantissima gente che sin dalle prime ore dell'alba è salita in quota per applaudire ogni singolo concorrente. E come al solito è stata battaglia. È stata battaglia tra gli alpini e i francesi. Questa volta a spuntarla sono stati i francesi che all'ultimo cambio pelle sono riusciti a riagguantare l'esiguo margine e a vincere la gara. A vincere la gara e a limare qualche secondo. Però sono sempre secondi in classifica generale. Terzo posto sempre per la coppia Gachet-Favre. Al femminile sempre Roumaud davanti a Mollareghez-Favre. E poi ancora Balmassoi con Ponte al terzo posto. La gara del sabato ha visto andare in scena anche la prima giornata delle categorie giovanili. Qui abbiamo un ottimo secondo posto con la coppia Magnini-Nicolini e Giulia Compagnoni e Erika Redigari per quanto riguarda la categoria Juniors. Per quanto riguarda invece i cadetti, successo di Giulia Murada insieme con Laura Corazza. Secondo posto di Giulia Gerardi con Milani Ploner. Primo posto di Niccolò Canclini e Andrea Prandi. Dopo un esordio dettato dal sole e da un caldo davvero primaverile, si è tornato a correre sotto la neve. Una neve davvero invernale che ha salutato il successo, il successo importante di Damiano Lenzi. Per lui prima vittoria alla Pierramenta. Seconda invece in carriera per il suo socio Matteo Eidali. Quarta per Letizia Roux che ha portato al primo successo di Pierra anche Matisse Maud. Sono loro i vincitori 2014. Sono loro i veri dominatori di questa prima tappa di La Gran Corsa. Per quanto ci riguarda però è importante segnalare anche il terzo posto di Martina Valmassoi al femminile e ovviamente anche il quarto di Laura Besseghini. Per quanto riguarda le categorie giovanili abbiamo il secondo posto Juniors di Giulia Compagnoni con Erika Redigari e il secondo di Magnini Nicolini. Nella categoria cadetti invece vittoria per Giulia Murada con Laura Corazza, secondo posto per la coppia Giulia Gerardi e Melanie Ploner e al maschile, secondo posto di Nucleo Canclini con Andrea Prandi, terzo posto per Andrea Carrobbio insieme a Nicolò Bertocchi. È andata quindi in scena una Pierramenta, una Pierramenta davvero fantastica, una Pierramenta che sempre, come ogni anno, merita di essere seguita. È andata bene, è andata come speravamo che andasse, siamo contenti perché il primo giorno abbiamo avuto sfiga, il secondo giorno abbiamo tirato fuori una gara che veramente ci ha permesso di vincere la Pierramenta e ieri e oggi abbiamo stretto i denti, abbiamo ammortizzato gli attacchi di William e di Matteo e abbiamo vinto questa Pierramenta che volevamo, abbiamo cercato e ci dà motivazione e soddisfazione visto che l'anno scorso eravamo venuti qui e non avevamo potuto dare battaglia, quest'anno abbiamo andato a battaglia e siamo riusciti anche a vincere. Sì, è una vittoria speciale perché era schiumi per quattro giorni, adesso il calo di tensione, il down potente, sei contento, rilassato, i quattro giorni prima un po' meno, stamattina veramente la tensione era abbastanza alle stelle, poi anche oggi sull'ultima salita mancavano quattro inversioni e con la neve fresca così mi si è rivoltata, ho perso un passo, mi si è rivoltata la pelle, ho dovuto cambiarla e diciamo che fino a quando siamo arrivati qua sotto non siamo stati sicuri della vittoria, poi abbiamo fatto una bella discesa oggi, discesa molto tecnica, Matteo l'ha mollata giù bene, io ho tenuto botta, penso che abbiamo mantenuto un paio di minuti di vantaggio e nulla, adesso andiamo a bere quattro birre, andiamo alla premiazione e poi riposiamo per il Tour de Ruita. Per fortuna è andata bene, si è giocata fino all'ultimo, fino all'ultima salita dell'ultimo giorno perché comunque perdere quel vantaggio che non era importantissimo sarebbe stato facile, quindi nulla, per me è una grande soddisfazione sportiva e vincere qua in casa dei francesi comunque vale quasi doppio. Giusto il tempo di riprendersi dalle emozioni di Pierramenta e questo fine settimana sarà di nuovo tempo di La Grand Cours con un'altra super classica, la diciassettesima edizione del Millet Tour de Routor Xtreme. Ai nastri di partenza sono previste 350 squadre a rappresentanza di ben 18 nazioni, previste anche 25 equip junior e cadetti che si affronteranno su tracciati disegnati ad hoc. Sono previsti 7.000 metri di slivello positivo, 25 cambi da zesto, 53 chilometri di sviluppo, 3 chilometri di creste canali a 3.000 metri di quota. Insomma, una gara davvero extreme. Ai nastri di partenza vedremo coppie altamente qualificate quale quella composta da Manfred Reikiger, Lorenzo Olsnet, Francesca Martinelli, Roberta Pedransini e poi ancora William Bombardion, Matteo Jacquemot, Damiano Lenzi, Matteo Eidelin, Anton Palzer, Alexis Evenek, Xavier Gachet, Valentin Favre, Tadej Piuq, Davide Galizzi e al femminile, ovviamente, Letizia Roux e Matisse Maud. Non solo Tour de Routor questo fine settimana, ma anche Coppa Italia Trofeo Scarpa con la Valtellina Orobie, Valtellina Orobie che doveva andare in scena nel mese di gennaio, ma poi la troppa neve ha costretto il comitato organizzatore a un lungo rinvio. Valtellina Orobie che sarà valevole non solo come tappa di Coppa Italia Trofeo Scarpa, ma anche per le categorie giovanili come tappa di Coppa Alpi Centrali e inoltre come terza tappa del circuito Triathlon dell'Orobie. Come al solito diamo uno sguardo all'estate, diamo uno sguardo all'estate delle corse, ma per non dire all'autunno, ovvero la finalissima del circuito di Coppa del Mondo di Skyrunning, che verrà presentato mercoledì 2 aprile a Limone Sul Garda. Verrà presentata infatti la Limone Xtreme con una serata davvero spettacolare, la Salomon Running TV Show. Alla presenza di Kilian Jornet, il catalano stratosferico campione delle gare podistiche d'alta quota, e poi ancora Jonathan Wyatt, il neozelandese della corsa in montagna. Ci saranno però anche il francese Michel Lann, la norvegese Emily Fosberg, l'americano Ricky Gates e la sua connazionale Stevie Kramer, una serata davvero spettacolare che mi invitiamo a seguire, perché davvero si vedranno dei filmati ineduti, dei filmati spettacolari, dei filmati a fil di cielo. Anche per oggi è davvero tutto, il nostro consiglio in gara è sempre quello, veloce i cambi e giù a bomba in discesa! SDM News, il primo TG degli sport outdoor di montagna, a cura di Maurizio Torri.